L'ottimismo è una calamita per la felicità. Se rimaniamo favorevoli vedrete che le cose belle e anche le brave persone poi saranno attratti da noi. In questa piccola frase che cosa ne traiamo fuori? Tante di quelle cose che neanche immaginate. A cominciare dal fatto che anche se è difficile, bisogna cercare di rimanere, o meglio, vedere il lato positivo in tutte le cose, anche solo per 5 minuti al giorno. Come quando a me mi veniva consigliato, pensate un po' parecchi anni fa, distanisce a vasana, proprio detto così, per 5 minuti al giorno e in questa condizione qua almeno il corpo si riposava e poi liberava anche dallo stress. Vabbò provate. Signorebbe esercitare una pressione qui, proprio dove sta la scanalatura del labbro, per 30 secondi. Poi una volta trascorsi questi andiamo a fare delle rotazioni, fino a quando poi i sintomi non si attenuano.